Leonardo Silva Revisore Vi presento un maestro della contaminazione, direi un gigante della contaminazione. Grazie per la visione! Mi spiace parlare sopra questa musica e interromperla, è il Libertango di Astor Piazzolla, versione per orchestra sinfonica. Astor Piazzolla è stato un grande musicista, un grande compositore, è un grande ibridatore del tango, sia perché inserisce nella forma originaria del tango degli strumenti che in origine non erano previsti, tra cui anche la musica elettronica, sia perché ibrida la forma proprio musicale del tango con altri generi musicali come il jazz, la fuga. E questo lo ha reso per molto tempo osteggiato, molto mal visto dai contemporanei e conterranei, soprattutto dai sostenitori della purezza del tango originario, che vedevano in lui un corruttore, chiaramente, del tango. La contaminazione è il filo conduttore di questo mio intervento. Per contaminare qualcosa bisogna metterlo in relazione con qualcos'altro. Quindi è come dire che le relazioni sono anche il filo conduttore di questo intervento. Noi ancora oggi sentiamo parlare di reale spesso in contrapposizione a virtuale, di offline in contrapposizione a un online. Ma quando ci spostiamo ad esempio con Google Maps a piedi oppure con i mezzi, dove siamo? Siamo online o siamo offline? Siamo in entrambi questi luoghi, commesso che siano tali, e in nessuno. Cioè è difficile oggi tracciare una linea di demarcazione tra queste due sfere. Tanto che il filosofo dell'informazione Luciano Floridi, italiano, insegnato ad Oxford, ha coniato il neologismo per definire questo scenario. Lui parla di on-life, per dire appunto che se ormai è creata una... Online e offline sono collassati l'uno sull'altro, insomma si sono fusi. Questo fa sì che le nostre esperienze oggi siano estremamente complesse, direi per certi versi anche involute. Cioè quando noi interagiamo con un'organizzazione, un'azienda, quindi quando cerchiamo ad esempio un'informazione oppure quando vogliamo fare un acquisto, seguiamo un percorso che somiglia molto per certi versi al gioco della campana, al gioco dell'oca. Quindi un percorso non predicibile, non lineare, fatto di salti continui, di passi falsi e gli studi dicono che può arrivare a durare giorni prima che noi, in certi casi, prima che noi prendiamo una decisione. E in questo tragitto noi facciamo sia un uso sequenziale di media e canali disposti a cavallo tra fisico e digitale, sia anche a volte un uso simultaneo, come la bambina di prima che sta su due caselle, un piede su una, un piede sull'altra. È frequente, non solo fra i più giovani ormai, che cerchiamo un'informazione online su un prodotto e servizio, poi però facciamo l'acquisto in negozio. Oppure viceversa, per prodotti dove la componente tattile, esperienziale è particolarmente importante, andiamo in negozio, magari guardiamo, misuriamo un vestito, poi però acquistiamo online. Oppure, ancora più complesso, facciamo un giro completo, cioè partiamo dal web, poi ci trasferiamo in un negozio, in un ufficio, poi ritorniamo sul web e magari il percorso continua ancora. Ecco, questo schiude delle opportunità, delle sfide nuove, ma anche delle opportunità per la progettazione. Intendo progettazione nel senso più ampio del termine, cioè come progettazione di servizi o di esperienze in tutti gli ambiti, anche quello sociale, anche quello imprenditoriale. Quindi non tanto l'azienda intesa come un'azienda che produce un prodotto, un servizio per i clienti, ma proprio l'azienda in quanto tale, in quanto flussi informativi al suo interno, in quanto persone. Un esempio, in questo senso, cioè un esempio che sfrutta in maniera efficace, a mio avviso, questo scenario, è quello del Cooper Hewitt Museum di New York. È un museo dedicato al design, che usa i vari contesti dell'organizzazione fisici e digitali non in isolamento l'uno dall'altro, ma in maniera complementare. Cioè ognuno è concepito in modo da arricchire l'esperienza dell'altro, in maniera tale che chi si muove da una casella all'altra del gioco della campana che vedevamo prima, non sperimenta una frattura, ma anzi sperimenta una continuità. Per il Cooper, l'esperienza di visita non comincia dentro il museo e non finisce quando noi usciamo dal museo, così come molte altre esperienze. Comincia prima e finisce dopo. Comincia prima, ad esempio, quando noi pianifichiamo la visita. E quindi ecco che il sito web del museo è concepito, fra le altre cose, per permettere di costruirsi un itinerario su misura, scegliendo di percorrere gli oggetti della collezione o in base al tema, moltissimi temi, anche in base al colore o in base anche ad altre suggestioni. Questo percorso può essere poi recuperato dentro il museo, grazie all'internet delle cose e con strumenti come questa penna ad esempio si possono fare molte cose, non solo avere informazioni sugli oggetti che si stanno guardando, ma anche interagire con questi. Quindi ad esempio acquisire i disegni dell'oggetto e manipolarli, giocarci, prendere appunti. Chiaramente non si tratta di vedere la tecnologia semplicemente come una feature in più che si aggiunge solo per fare effetti speciali, ma è qualcosa che serve a garantire una continuità, come dicevo prima, tra i vari contesti e mondi, tra le varie facce del museo. E infatti di nuovo dopo la visita io posso, attraverso il sito web, ancora ripercorrere ciò che ho fatto e scaricarmi tutto il materiale. Quindi si crea una circolarità perfetta tra queste diverse sfere. E questo fa sì che da qualunque punto io comincio il mio itinerario posso comunque passare all'altro senza sperimentare un'interruzione, una frattura. questo dà un valore aggiunto non solo per il pubblico, che sicuramente vive un'esperienza più ricca, ma anche per l'organizzazione, perché permette a ciò che è stato concepito dall'alto, dall'esperto, dal museo, di venire misurato sul comportamento effettivo del pubblico, che può essere monitorato in tempo reale. E quindi questo a sua volta può retroagire sul design. Cioè se io voglio posso utilizzare questi feedback per migliorare il design che è stato concepito dall'alto. Quindi di nuovo delle categorie che spesso abbiamo considerato opposte, quindi l'organizzazione e il pubblico, il designer e il cosiddetto utente, vengono a fondersi, non sono più contrapposte, ma diventano parte di un circolo virtuoso unico. Per raccontare tutto questo, alla Triennale di Architettura di Lisbona del 2013, quindi non nemmeno recentissima, un'agenzia di architetti ha presentato un cortometraggio, perché meglio di tante parole valgono le immagini. Questo film è ambientato in India, in una città indiana del prossimo futuro, e vede come protagonisti dei bambini che giocano a nascondino. Chupanchupai è il nome indiano del nascondino. Giocando a nascondino, questi bambini hackerano la città, hackerano in senso buono. Il concetto di hacking è quello centrale del filmato. Ne vediamo un frammento. Vedrete che questa bambina interagisce con gli spazi come noi siamo abituati a fare con le interfacce gestuali. E così facendo, per nascondersi insieme al compagno, accede alla città nascosta, cioè a uno strato, diciamo, non visibile della città. Perché l'idea portante di questo video è che la città... Ecco, vedete, dicono, qui nessuno ci troverà, perché solo la città può vedersi. L'idea portante, dicevo, è che la città è un luogo, è un impasto di fisico e digitale, di atomi e bit, per cui c'è questo nucleo, diremmo con un linguaggio informatico, c'è un core, che è il cuore, che è questa che vediamo, la città antica, selvaggia, vergine, su cui è stato costruito un rivestimento, un'interfaccia, che è quella che vedevamo prima, le case celesti, e che si può modellare, con la quale si può interagire. Chiaramente qui c'è un'iperbole, c'è un'esagerazione, però l'idea che si vuole veicolare è proprio questa, dello spazio modellabile, di un luogo che si adatta. E ho riportato queste parole di Giuliana Bruno perché mi sembrano molto efficaci. Lei parla di luoghi come cera. La cera richiama due aspetti fondamentali. Uno, che la cera è plasmabile facilmente. Due, è scrivibile. Con la cera si facevano le tavolette su cui si scriveva il palinsesto. Cioè il luogo diventa scrivibile. Le nostre storie, le nostre interazioni con il luogo non sono più destinate, volendo, a evaporare, come sempre le nostre interazioni producono storie. Ma le possiamo in qualche modo capitalizzare e utilizzare, richiamare e utilizzare per migliorare quello che è fatto dagli architetti, dal designer, da chi sia dall'alto. Tra l'altro, Giuliana Bruno, autrice di bellissimi libri che intersecano arti visibili, cinema, architettura e mi piaceva riportarla proprio perché credo che questo approccio ibrido sia necessario per comprendere una realtà che è altrettanto ibrida e complessa e per la quale le categorie tradizionali altrimenti non ci aiutano da sole. Quindi, in conclusione, oggi il design sta evolvendo da design di oggetti, cioè degli artefatti che hanno dei chiari confini, che sono come questa scatola cioè definiti, chiusi, che noi possiamo utilizzare così come sono, verso design di sistemi che invece è una relazione tra le scatole e nel sistema quello che conta sono proprio le relazioni tra gli elementi, più che gli elementi stessi. quindi l'invito è a focalizzare il design a cogliere questa opportunità, vedere nella progettazione non tanto una fabbricazione di oggetti materiali ma più una abilitazione di relazioni tra elementi che, anche che già esistono e per elementi intendo tutto luoghi, persone, servizi, prodotti quindi, in definitiva d'ora in avanti quando pensiamo a un progetto alla progettazione proviamo a pensarla per orchestra come Piazzolla e per un'orchestra ibrida perché più sono apparentemente lontani gli elementi dell'orchestra in senso culturale più è probabile che questa produca un'effettiva innovazione grazie grazie